vittorio intanto quanto era importante partire soprattutto per i ragazzi tanto tanto perché con sto covid ha un po distrutto tutti anche loro specialmente che si sono sentiti in una gabbia perché tutti questi mesi così non potersi sfogare hanno una voglia di divertirsi di lavorare di grande esperienza sai come trascinarli come io ce la metto tutto cerca di trasmettere l'entusiasmo perché è un passaggio veloce e se sanno lavorare si impegnano si divertono e quello è importante una crescita di educazione che molto alla base di tutto lo studio e poi venisse a divertire qui e pensare solo a giocare e non pensare altro che faccia d'età c'hai vittorio noi abbiamo gli allievi regionali e allievi b giovanissime regionali e giovanissimi b e poi gli altri 2007 quelli della scuola calcio quelli della scuola calcio che a mano a mano vengono da noi per formarsi dopo lo che l'ha avuto il sorini e come cambia questi metodi di allenamento cambiano in senso che sono allenamenti prima parecchia tecnica di base alla scuola calcio dopo cominciano allenamenti un pochino più velocità più tecnica più esplosività più capienza di dove sono che cosa è la porta cioè l'area di rigore i movimenti capire il senso tattico della posizione tante cose che è un grande lavoro è un grande lavoro è un grande lavoro e mentalizzarli e lavorarci però da soddisfazione quando anche qualsiasi ragazzo finisce qui e porta dietro qualcosa che gli abbiamo trasmesso noi quando li vede arrivare che arrivano con entusiasmo anche se devono sudare la mano quello sì c'è da lavorare c'è da impegnarsi perché se uno lo fa gli devi piacere il ruolo che fa perché se non gli piace il ruolo è tempo perso gli devi piacere il ruolo e sacrificarsi a te intanto sto ruolo ti è piaciuto sì molto mi è piaciuto molto e mi piace anche trasmettere qualcosa di quello che io purtroppo a miei tempi non avevo non avevo il preparatore dei portieri e parlo della serie d cioè ci allenavamo da noi a fine partita l'allenatore ci faceva fare i tiri era tutto lì si correva molto parecchie addominali torsali che corsa era tutto lì ora invece oggi c'è lavoro specifico che aiuta molto e quindi comunque lo seguiremo certo ti auguro buon lavoro grazie grazie per la tua disponibilità grazie a lei